ciao come state controllo che tutto sia a posto che tutto sia perfetto perché dobbiamo lasciare a posto per chi verrà dopo di me beh intanto vi mando un saluto perché da un po che non ci salutiamo che non ci vediamo in quanto insomma agosto è un mese senza diretti dei vinili quindi senza diretti in generale ma i vinili lasciano un po di pausa prendono un po di pausa e così respirano e poi ci ritroveremo di nuovo a partire dal mese di settembre per quanto riguarda invece dei live beh si concluderà poco la challenge e devo dire che insomma a qualcuno di voi poi si è riscritto al canale patron e aveva partecipato e in questo caso insomma devo dire che è andata molto bene sono stati tanti quelli che hanno partecipato avete hanno messo e hanno dato un mucchio di spunti di canzoni tant'è che la prossima settimana faremo una live serale sul canale patreon proprio per raccontare un po questo challenge comandata e andare ascoltare anche qualche qualche brano magari qualche vinile chi lo sa quindi se avete voglia di fare un salto dall'altra parte io vi aspetto anche per questa serata quindi questo live dedicata alla challenge e poi ci sono tante cose che verranno fatte sul canale patria per quanto riguarda mese di gosso visto che non si possono fare insomma le dirette classiche proprio perché la trasmissione mia è terminata farò altre dirette dalla ginnastica alle letture vi porterò anche in vacanza con me quindi quest'anno invece della corsica andremo all'isola delba per cui potrete vedere anche un po di isola come si dice sperduta no mi hanno detto tutti che bellissime quindi sono curiosa di andare a vedere quindi magari la farò vedere anche voi ve la racconterò sempre a modo mio naturalmente e poi ci saranno tante altre cose per cui la dicevo così il nostro saluto di questa di di quest'oggi era per rinnovare intanto buone vacanze dirvi che non scappo e che anzi tornerò con tanti più vinili perché ho modo di cercarne altri in questo mese d'agosto però comunque la challenge e quindi le dirette ed altri video verranno postati sul canale patro per cui vi aspetto simona non solo radio se volete partecipare anche voi fatelo e io sono qui insomma vi accolgo come sempre abbraccio aperte un bacio ciao buona serata a tutti e buona estate abbraccio